ciao raga ciao buongiorno a voi Antonio Ferrara lo sapete lo scrittore esercizio di scrittura oggi tocca a voi fare gli scrittori un pochino dai chissà che non venga fuori un bel lavoro io vi do le consegne sto per darvele questo esercizio si intitola prendi la parola ma nel senso che tocca a te no cioè tocca a te finalmente finalmente hai voce hai qualcuno che ti ascolta la biblioteca di lisona le organizza queste cose cioè vuol dire che tu devi proprio però il titolo nasconde un altro significato vuol dire che c'è da prendere proprio delle parole che adesso vi elencherò segnatevele tra queste parole bisogna sceglierne tre per forza è la consegna se la consegna e queste parole per forza dovranno finire insieme a tutte le altre vostre parole naturalmente dentro il vostro testo aspetta o io ve le elenco prendete un foglio prendete una penna assegnatevi queste parole io ve le elenco e anche piuttosto velocemente almeno tre almeno tre di queste parole devono finire nel vostro testo insieme alle altre vostre parole le mie sono molto di più pane straniero anello pietra ruscello gelato fumo gioia nutella diverso fuoco caramella colpa stagno uguale nuvola amico pianto violino profumo latte sorriso o raga questo è il mio elenco di parole vi ricordo tra tutte queste parole ne scegliete voi tre vi autorizzo a cambiarle nel genere o nel numero che sapete vuol dire che può diventare una parola singolare può diventare plurale da plurale può diventare singolare da maschile femminile da femminile maschile ok tre devono finire nel vostro testo che dovrete scrivere in dieci minuti raga non fate i furbini piazzate lì sveglia orologio cellulare e non sforate il tempo che vi ho dato dieci minuti perché così il giochino non vale così non vi annoierete solo dieci minuti di scrittura che sarà mai chissà che bei lavori verranno fuori chiaro eh prendi la parola nel senso che proprio ne devi prendere tre anzi tra tra quelle che ti ho affidato bene signori ah beh alla fine mettete anche un titolo a questo lavoro decidete anche un titolo come fanno gli scrittori che prima scrivono quasi sempre a me capita così prima scrivo tutto il romanzo poi alla fine quando ho capito esattamente cosa ho combinato piazzo in cima il titolo che poi quando il libro viene pubblicato per fortuna finisce in copertina tre parole dieci minuti e il titolo non fate i furbini sul tempo a disposizione ciao raga buona scrittura buon lavoro wow wow Grazie.